Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi non potevo non registrare questo video dopo che in chat partito tutto da Saru i ragazzi si sono aggiunti mi hanno detto che da pochi minuti è arrivata una roba incredibile nella mappa ragazzi! Ieri abbiamo visto la modifica dell'impianto a pressione di Aprodo signori avete capito dove sono? Sono nel fiume vicino ad Aprodo ragazzi lol lol c'è una papera gigante raga c'è una fottuta papera gigante nel fiume di Aprodo con gli occhiali da sole che ha un milione di HP raga quindi si può anche hittare io non so non so cosa dire perché è veramente meravigliosa raga è veramente meravigliosa da vedere ci tenevo tantissimo a farla vedere anche a voi e ringrazio di nuovo in chat per avermela chiamata un bel pollicione in su iscrivetevi al channel noi siamo in live ciao!